Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo su The Sims 4 e siamo al secondo day time settimanale della nostra casa del GF. Allora, l'altra volta abbiamo visto la giornata dei due nuovi entrati, ovvero Teodora e Jacob, che hanno riscosso molto successo, devo essere sincero, e poi abbiamo visto i due nominati, ovvero Sebastian ed Anthony. Una nomination molto sofferta che secondo me cambierà un po' le carte in tavola del gioco. Nel frattempo ovviamente io non riesco a mettere il cronometro, sappiatelo, è appena partito. E quindi oggi invece vedremo la vita di i due, il concorrente, diciamo, a coppia, la nostra Alice e il nostro Alexander, e poi Elena Barbieri e la nostra Federica Fontana, che invece loro quattro appunto non sono in nomination. Allora, si è svegliata Alice, io tra l'altro ho tolto tutto il materiale personalizzato, perché con l'arrivo della nuova espansione il gioco mi andava un po' più lento, e poi ho notato che effettivamente anche a livello di Crea on Sim hanno aggiunto veramente tanto sia di capelli che di vestiti, quindi mi sembrava un po' inutile avere le mod, cioè preferisco evitare le mod e avere il gioco più fluido. Infatti, come vedete, il gioco va molto meglio. Allora, la nostra Alice, penso che, cosa fa? Si mangia le patatine, a prima mattina, così, proprio senza alcun dubbio. Allora, oltretutto vi ringrazio perché in molti state cercando di indovinare chi è Fiona, quindi se è un parente, se è un'amica, se è una, non lo so, un qualsiasi legame con uno dei nostri concorrenti. Ci state provando in molti, ovviamente io il risultato lo darò nella prossima puntata, perché a differenza dell'altro segreto, diciamo che voglio vedere chi si avvicina di più, sia legame e ovviamente se indovinate la persona a cui è legata. Quindi non voglio svelarvi da subito chi vince o chi magari ha indovinato, o se qualcuno l'ha indovinato, perché non è detto che l'abbiate indovinato. Ovviamente in casa ci sono state delle piccole modifiche, perché non avendo, avendo tolto il materiale personalizzato, io alcune cose che c'erano qui, tipo il tappeto, il pavimento, le sedie viola o le sedie che erano qui, le ho dovute cambiare. Tra l'altro il tappeto però mi piaceva, anche se era materiale personalizzato, però vediamo di metterci qualcos'altro, magari qualche altro tappeto. Andiamo a tappeti, vediamo magari, ah ecco, magari tra quelli nuovi, che sono questo, questo, questo e questo. Vediamo questo, non è grandissimo, mi piace più questo. Voilà, lo mettiamo così, ci piace. Belle, ma mi piacciono anche le cose che hanno inserito con gli oggetti, diciamo, vedete, tipo questa poltrona del confessionale con queste sedie, anche se questa poltrona non è proprio da confessionale, secondo me. Vediamo se c'è, anche nelle cose un po' vecchie, io direi più una roba simile. Bianca, ovviamente, bianca e nera. Eccolo qui, sì, sì, mi piace molto di più. Voilà. Allora, sveglia solo Alice. Che cosa? Voilà. Allora, lei ha il desiderio di imparare a conoscere Anthony, che anche se è in nomination, e criticare qualcosa per essere snob. Vediamo se riusciamo a criticare... No, preparate il caffè potrebbe essere interessante, dato che prima mattina, sono le quattro, lei si è già alzata. Vediamo un po'... Ah, ecco, si è svegliato anche Anthony. Io direi di metterlo a mangiare, anche se non ci dobbiamo occupare di lui oggi. Però, però, dato che lei voleva imparare a conoscere Anthony, la mettiamo subito a preparare, a imparare a conoscerla, a conoscere. Allora, amichevole, chiedi di vedere la... impara a conoscere. Oltretutto, ragazzi, io ho fatto passare un po' di tempo nella casa, perché ci ho giocato per una giornata, e vi posso assicurare che è successo un po' di tutto. Tra Sebastian, che ha flirtato con Federica, Anthony e Teodora hanno stretto un po' di più di rapporto, e quindi... Jacob, comunque, piace molto ai ragazzi, a quanto ho notato. Federica, che fa? Se vede la televisione? No. Allora, magari, visto che ci sei, ripulisci un po'. Ah, si è svegliata anche la nostra Elena, di cui ci dobbiamo occupare, e sta andando in bagno. Eccolo, Jacob. Elena ha questo desiderio. Ovviamente, come vedete, ho modificato un po' i capelli anche ai nostri sim, perché alcuni portavano del materiale personalizzato, ma sono rimasti molto simili. Anche gli abiti, o roba simile. Tutti a fare pipì. Tutti che si svegliano con la pisciata imminente. Vai a mangiare, Lenuccia. Poi ti facciamo parlare con Sebastian. Federica, perché è sconvolta? Ah, sta... ok. Mangia anche tu, Fede. Ah, è tesa per... Struggimento d'amore. Ad oisim romano, bisogna di esprimere amore e di sentirlo espresso con loro. Tesoro. E tu, con Anthony, dovresti, di regola. Vedi, ah, infatti, comunque il loro grado di romanticismo sta diminuendo. Flirtiamo. Visto che hai bisogno... hai bisogno di affetto. E... complimentati per l'aspetto. Poi dobbiamo... Ah, il nostro Alexander. Il nostro Alexander guarda la tv in compagnia di Sebastian, che è sempre in mutande, devo essere sincero. E lui vorrebbe imparare a conoscere Elena. Dov'è Elena? È qui che mangia. Allora facciamo una cosa. Elena che sta... no, Elena. La portiamo qui a mangiare. Se sta mangiando, ovviamente. No, sta chiacchierando con Teodora. No, amore. Allora, aspetta. Vai qua. Teodora, non so cosa ci stia facendo lì. Fai colazione con farina d'avena. E poi vai... Ti siedi qua. Qua si è rotto qualcosa sicuro. Forse la doccia? No, il nasanto. Ce l'ho davanti. Il rubinetto. Quando si svegliano i ragazzi... Ecco, tipo Sebastian è un po' di tempo che passa continuamente in palestra. Lui ha bisogno di... Perché lui, se non erro, è attivo. E infatti ha proprio bisogno di esercizio fisico, ragazzi. Anthony è seduto qui, anche se avrebbe bisogno di mangiare. La nostra Alice... Di cosa ha bisogno? Sai di livello di carisma. E critica qualcosa. Ma possiamo criticare tipo Elena? Non lo so, boo. Anche perché loro non è che sono proprio al massimo. Perfido, vedi, insulta, urla contro, hanno malizia, critica. Non c'è critica, quindi è sugli oggetti. Critica e lavoro, esatto. Alexander ha bisogno di mangiare. Sta qua. È buona, farina d'avena, mangia farina d'avena. Elena, magari dovresti... Che dici? Yogurt? Visto che ci sei. Poi Federica, 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 dov'è? Ma tutti che devono mangiare... Eh, ma perché non mangiano? Ecco, Federica e Sebastian stanno andando fin troppo d'accordo. Cioè, nel senso, ancora non sono amici, però in questo periodo si stanno annusando. Anche se Sebastian era perdutamente invaguito, diciamo, di Elena. Racconto una barzelletta. Raccontiamogliela. Racconto una barzelletta sugli alieni. Mentre lui si allena, fantastico. Barzelletta, toc toc toc. Perché lui è a disagio? Ah, perché deve mangiare? Perché ovviamente è sporco e lurido. E infatti qua c'è schifo... Bacia Elena per la prima volta. Ma noi non ci occupiamo di Sebastian. Elena? Ha mangiato? Ce l'ha fatta? Santa miseria. Allora, stringi Sebastian. Beh, allora ci proviamo. Magari, però, prima mandiamo Sebastian a lavarsi. Basta allenarti, tesoro. Così proviamo a far succedere, diciamo, il primo bacio della casa. Perché ancora non c'è stato nulla di tutto questo. Teodora c'ha fame. Allora, Teodora, sai che fai? Prepara, proprio servi la colazione. Uova strapazzate. Così impari pure un po' a cucinare. Qui Sebastian si sta lavando. Alexander. Sta abbastanza bene. È triste. Non so per quale motivo. Ah, perché vede coppie in giro. È invidioso. Ma io a te te farei mettere con... Con Jacob, che invece... Sebastiano è annoiato. Jacob è nudo? No. E si è vestito. Allora. Jacob, caro, tu vuoi diventare amico? Eh, sì. E proviamo, diciamo, a farti diventare amico, per l'appunto. Discuti della pace del mondo. Sei un po' furbacchione. Complimento sincero. Discuti degli interessi. Discuti degli interessi. Impara anche a conoscere. Voilà. Sebastian è annoiato? È annoiato, perché? Brutta barzelletta. Fantastico. Alice, Alice, dov'è? Lei sta par... Al cellulare. Non puoi stare al cellulare. Allora, ora tu ti vai a fare una bella... Sauna. Lei non è proprio socievolissima, eh. Devo essere sincero. Federico Onzi? Ti è passata la tristezza, l'imbarazzo. Sta flertando con il nostro Anthony. Che è in nomination, vi ricordo. Se dovesse uscire, cioè... Sarebbe un bel danno sia per Federica che per Teodora, che ci hanno investito molto. Ma anche Sebastian. Cioè, Federica è un po' indecisa, secondo me, tra Anthony e Sebastian. Ma vabbè. Elena, tu vuoi stringere Sebastian? Dov'è Sebastian? Si sta cucinando qualcosa. Quindi facciamolo mangiare e via. Tu intanto vuoi fare qualcos'altro? Preparare un pasto. Allora, innanzitutto io riporrei questo piatto. Perché se no, i ragazzi continuano a cucinare come se non ci fosse un domani. Sebastian mangia. Jacob sta continuando a preparare. Federica? Federica vuole diventare amica di Jacob, se non erro. Ah, Jacob dove sta? Ah, si sta preparando, scusate. Elena, Alexander... Parla con Anthony, che è un suo amico. Qui cosa c'è? Stordito perché magari è malato per la malattia, infatti. Lamentati della vita sentimentale. Ti lamenti subito, guarda. Perché comunque lui non fa altro che lamentarsi della vita sentimentale. Vediamo se sta. Ecco qua, lamentati della vita sentimentale. Ma potresti farlo anche con Teodora, eh. Se lo troviamo... Impara a conoscere innanzitutto Teodora, dato che è nuova. Ed è fiduciosa Teodora, addirittura. E lamentati della vita sentimentale. Elena vuole stringere, quindi ci proviamo. Altre scelte, romantico. Complimenta l'aspetto. E poi magari... Romantico, stringi. Dove sono? Lui sta appoggiando il piatto. Vediamo se riusciamo a far scattare un bacetto tra di loro, eh. Stanno flirtando abbastanza. Allora, descrivi la nuova idea. Complimenta l'aspetto c'era. Chiedi se è single. Abbiamo capito che è single, però lei è un po'... Condividi le insicurezze, appunto. È un po' insicura. Perché Sebastian in questi giorni si stava dando da fare con Federica. E poi ha paura, appunto, che il nostro Sebastian possa uscire. Scambia i numeri di telefono. Adoro. Poi. Conversazione profonda. Sebastian è single. L'abbiamo capito. Cara mia Elena. Flirta. Si scambiano il numero di telefono. Ma perché? Perché? Non sa da fa' sta coppia. Flirta. Impara a conoscere. Non si vogliono, secondo me. Discuti degli interessi. Cioè, un po' si vogliono, un po' no. Non si cap... Primo bacio. Vediamo se succede. Perché vi spostate? Ah, mo' si siedono. Lei, tra l'altro, è in intimo. Ecco, siediti magari vicino. Andiamo avanti perché vogliamo sto primo bacio noi. Succederà qualcosa? Tra i nostri? Forse sì. Vediamo. Ovviamente si alzano. Se lo danno? Oh, sì. Il primo bacio della casa, ragazzi, c'è stato. Finalmente. Santa miseria. Ci hanno fatto penare per questi primi baci. Ok, Federico. Vediamo. Il cos'è bisogno. Tu vuoi parlare con Jacob? Allora, sai che ti dico? Visto che questo vuole parlare con Anthony. Allora, però noi seguiamo Federica. Quindi. No, ragazzi, Alexander che pulisce la sauna. Fantastico. Io direi che Jacob e Federica li mettiamo... Entra. Ed entra a farsi una bella vasca idromassaggio. A farsi un bel bagno idromassaggio. Perché sta vasca la usano, devo dire, un po' poco. Magari c'entrate. Così si conoscono qui dentro. Anche se ricordiamo che Jacob è solo amicizia tra di loro. Perché Jacob appunto è gay. E quindi potrebbe solo ed esclusivamente innamorarsi di un uomo. Spettegola. Vediamo Rallegra. Lui è molto flertante. Anche se lui è molto flertante, in effetti. Complimento sincero. Barzelletta Toc Toc. Dai, loro potrebbero essere una bella coppia di amici, eh. A me piacerebbe molto. Sono carini, in effetti, insieme come amici. Come coppia? No, perché lei la vede appunto con Anthony. Alice, Alice, vediamo Alice nel frattempo. Che cosa sta facendo? Sta in bagno. Qui c'è Teodora. Magari ti facciamo parlare un po' con Teodora. Chi vive la carriera? Dai un colpo fraterno. Qui amicizie che nascono senza... Complimento sincero. Potrebbe nascere un'amicizia tra di loro? Non lo so. Condividi foto e disoccupata. Alexander. Un messaggio. Venire da te. Daniel, che ovviamente è rimasto senza capelli. Mi devo ricordare di aggiustarlo. No. Lui vuole parlare con Elena. Elena nel frattempo che fa? Mangia. Alexander è qui. Quindi possiamo benissimo chiacchierare. Racconto una storia sensazionale. No, ma potevi mangiare. Spettegola. Lui ovviamente ora deve andare... Condividi le insicurezze perché lui è un insicuro nato proprio. E poi ancora... Condividi un segreto. Voilà. Comunque, ragazzi, i nostri concorrenti non fanno altro, diciamo che studiarsi e approfondire. Lei è molto giocosa. Quindi vediamo cosa potresti fare. Molto giocosa. Magari potresti anche spruzzarli qualcosa. Scaccia dalla vasca... No. Racconto una storia stravagante. No. Non lo so. Rallegra. Perché lei ha acquisito l'abilità di ballo? Cosa sta facendo? Sta ballando? Tra l'altro loro ballano nella vasca e tra un massaggio, ragazzi. Una nuova abilità è quella di The Sims 4, diciamo insieme. E lei ha appena acquisito l'abilità di ballo. Qui Alice parla con Sebastian, mi sa. Se non erro qui cosa c'è scritto. Racconta una barzelletta. Racconta a Sebastian. Una racconta sui mimi, va? Bene, ragazzi. Allora, secondo me questa giornata di studio dei nostri ragazzi è stata molto interessante. Si stanno stringendo nuove amicizie, tipo Federica con Jacob. Elena e Alexander sono diventati ottimi amici. Finalmente Elena e Sebastian si sono dati il primo bacio. Anthony è ancora un po' indeciso, secondo me, tra tutte le donne. Lui è un po' un Don Giovanni, eh, ragazzi. Si è amichevole con Elena, per esempio. Vuole stringere, tipo, vi faccio vedere i rapporti in casa. Come vedete, lui sia con Teodora che con Federica, pur non avendo un tipo con Teodora amicizia, però c'ha un livello flertante. Cioè, lui è un po' un Don Giovanni, in effetti. Eh, vabbè, che dobbiamo fare? Vi ricordo, ragazzi, di votare, appunto, tra il nostro Don Giovanni Anthony e il nostro Sebastian, che invece sembra aver deciso di approfondire con la nostra Elena. Elena, bacia Elena, ma si sono baciati già. L'abbiamo dato il primo bacio. Fai fichi fichi nella sauna. Non si fa per ora. Battuta. C'è bacia? Non c'è. Beh, vabbè. E vi dicevo, di votare chi volete eliminare tra Anthony e Sebastian. Vedete che si stanno stringendo nuove alleanze, nuovi rapporti, quindi io non uso immaginare nelle prossime nomination cosa accadrà. E niente, come al solito vi dico, fate ciò che volete, condividete. Metto pausa perché sento loro parlare e mi stanno urtando il sistema nervoso. Fate ciò che volete, condividete questo video. Magari lo... Potete mettere mi piace, iscrivervi al mio canale, che stanno crescendo sempre di più i nuovi iscritti. E questa cosa mi fa piacerissimo. Siamo quasi vicino ai 100 iscritti. E per me è già un piccolo traguardo, anche se ci sono youtuber che hanno mille, due mila, tre mila iscritti. Non me ne frega niente. A me già raggiungere magari il numero 100 sarebbe un grande obiettivo. Oltretutto, ragazzi, vi dico un'altra cosa. Io, purtroppo, questo video uscirà di domenica, anche se lo sto registrando di sabato. E poi io, fino a giovedì, non sarò in casa. Quindi per quattro giorni non pubblicherò video. Quindi la puntata, la nuova puntata, uscirà settimana prossima. Lo so, forse mi odierete per questo. Perché voi, lo so, mi chiedete sempre quando esce la nuova puntata e cose del genere. Però sono, diciamo, incapacitato a poterla fare. Però voi continuate a votare, continuate a seguirmi. Magari prendete questi quattro giorni per rivedervi un po' di episodi che magari avete perso. Anche delle altre serie. La Black Widow Challenge e invece l'altro reality che ho finito, Cucina il Sogno. Oppure iniziare, appunto, la nuova serie. Ovvero la The Sims 4, usciamo insieme con il nostro Riccardo e la nostra Katia. Quindi, ragazzi, vi mando un bacio, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio. Un bacio dal vostro Daniele Danzu. Un bacio dal vostro Daniele Danzu.